Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è venerdì 25 novembre 2022 e una giornata particolare, quella viene rimarcata anche oggi da tutti i giornali, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ci sono molte manifestazioni di sensibilità che si organizzano in tutti i centri della provincia, della nazione ma anche a livello internazionale perché questo problema, un problema grosso, ancora incombe sulla nostra realtà al tempo d'oggi quando la sensibilità delle persone si dovrebbe essere evoluta nei confronti di una cultura che ormai appartiene al passato. E vediamo subito l'almanacco del giorno, vediamo come oggi si festeggia Santa Caterina di Alessandria, quindi auguri a tutte le Caterine. Fu una donna colta, sapeva di filosofia, di scienze, in un tempo, quello del III secolo, in cui poche donne si elevavano nel sapere al pari degli uomini. Fattasi cristiana, Caterina fu perseguitata dall'imperatore Massimino, un imperatore piuttosto crudele nei confronti di questa nuova religione che sorgeva nell'impero romano. Massimino la condannò ad essere legata, pensate, veramente una condanna molto crudele, ad essere legata ad una ruota e con uncini le fossero strappate le carni. Era un supplizio veramente atroce, ma che cosa accadde? Accadde che nel momento in cui il meccanismo fu messo in moto si ruppe e quindi la ruota si arrestò. Caterina purtroppo non si salvò perché poi fu decapitata, insomma la sua sorte ormai era assegnata, ma la sua storia, le sue vicende furono così emblema di quello che furono le persecuzioni nel III secolo, quando la religione cristiana stava un po' dilagando, stava un po' così dilagando un po' in tutto l'impero. E gli artisti poi si sono veramente sbizzarriti a ritrarre Santa Caterina, sempre con la ruota. Quindi quando vedete una santa con una ruota, con degli uncini, pensate a Santa Caterina di Alessandria. Vediamo ora subito le previsioni del tempo. Vediamo la grafica. Abbiamo una situazione un po' incerta oggi su tutte le marche. Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, così dicono le previsioni. Le temperature massime saranno sui 15 gradi, le minime sui 9 gradi. I venti saranno deboli, il mare è quasi calmo e poi vediamo che i venti ispireranno da una tensione debole da sud. Ed ora vediamo anche l'immagine, un'immagine molto bella, quella che ci appare sullo schermo. Un'alba, un'alba infuocata, il sole sta per sorgere. Sorgerà alle 7.14, tramonterà alle 16.35. Questa è un'immagine che viene tratta sulla spiaggia di Numana. Una località turistica di particolare importanza. E anche una località archeologica importante, perché lì furono ritrovati i segni della presenza dei piceni nel nostro territorio. Ed ora apriamo i giornali per quanto riguarda le notizie del giorno. Li apriamo in quello che oggi si evoca. La festa contro la festa, insomma, è una ricorrenza, non è la festa, scusatemi l'espressione, è una ricorrenza contro la violenza sulle donne. Vediamo subito il resto del Carlino, come tratta questa notizia. L'esercito di donne che denunciano più forti della paura, aiutiamole. In crescita il numero di chi si rivolge ai centri antiviolenza. C'è sempre maggiore consapevolezza. E questo è un dato negativo e un dato positivo. È un dato positivo perché ci sono sempre più donne che denunciano, ma è un dato negativo perché questo vuol dire che ancora molti uomini usano violenza nei confronti delle donne. Vediamo i numeri. Le donne che si sono rivolte nei centri antiviolenza nel 2020 sono state 118, nel 2021 149, nel 2022 fino ad oggi 167. Il trend è veramente in crescita. E poi vediamo altri titoli che riguardano questa situazione. E vediamo come la foto di Anastasia, l'ultima donna uccisa a Fano dal marito, ha assunto un po' l'emblema di tutte le donne in questa ricorrenza. Addirittura la Presidente del Consiglio Meloni ricorda Anastasia, è stata una ragazza a coraggio e oggi a Fano ci sarà l'omaggio di Larusta, del Presidente del Senato che giungerà a Fano nel pomeriggio. Incontrerà il sindaco Massimo Seri e poi depositerà un mazzo di rose rosse nella casa di Alastantia in Viale Trieste a Lido. In questo articolo di fondo invece vediamo che si parla del bambino di Anastasia, del piccolo di due anni e mezzo che ormai ha perso la mamma e il padre è in prigione. Al momento è in affido temporaneo alla famiglia di Mirko Carloni, il deputato della Lega. Carloni coccola il piccolo Adam, così si chiama questo bambino, vogliamo aiutarlo e proteggerlo. Il figlio dell'Ucraina, due anni affidato al deputato, incontra regolarmente la nonna. Al momento la famiglia di Carloni si rende disponibile ad occuparsi del bambino, ma non vuole l'affido esclusivo, vuole che a questo pensi i parenti del bambino, la nonna e poi anche la zia, cioè la sorella di Anastasia. Comunque la disponibilità di questa famiglia è massima, può fare tutto quello che serve a fare. E vediamo anche come tratta questa notizia il Corriere Adriatico. Lo vediamo qui con due pagine addirittura all'inizio appunto del giornale. Parlano delle donne simbolo appunto della violenza. Ilaria, Anastasia e tutte le altre, crimini e soprusi su 663 donne. Questi sono i numeri dei centri abusi delle Marche nella giornata contro la violenza sulle donne. E sono evidenziate quattro storie esemplari su queste pagine. Abbiamo la storia di Ilaria Maiorano, che è stata uccisa la mattina dell'11 ottobre, quando questa 41enne osimana viene trovata morta sul letto con sangue ovunque. A dare l'allarme il marito Tarik El Gadassi, un 42enne marocchino, che stando agli inquirenti è l'unico responsabile della sua morte. Qua invece abbiamo la storia di Anastasia. Mamma in fuga dall'Ucraina, ti lascio, e tre coltellate sono state la fine di questa storia e di questa giovane vita. Il suo avvocato, la guerra, l'ha indotto a sottovalutare la pericolosità del marito. Ebbene, poi abbiamo anche altre storie. L'incubo dello stalker è durato per 33 anni. E qui si parla di una ragazza, di una donna, anzi il cui nome non viene rivelato, viene chiamato fittiziamente Cinzia, nome di fantasia di una falcolanese che ha iniziato a denunciare il suo pericultore, pensate, nel 1989, quando lei aveva 16 anni. Ebbene, l'ha visto finire in carcere soltanto poco tempo fa, nel gennaio scorso. Quindi veramente ci è voluto tanto perché questo uomo fosse reso inoffensivo e perché soprattutto cessasse questa minaccia continua che rendeva la vita impossibile. Un'altra vicenda è quella che si riferisce ad una donna perseguitata dall'ex. Ebbene, questa ha avuto l'acido tirato contro l'auto, per fortuna non nel volto. È il racconto di un incubo, quello che viene esposto oggi sul Corriere Adriatico. Un incubo fatto di una persecuzione con messaggi molesti, insulti e un inquietante sfregio dell'acido gettato nell'auto. Un vortice vero e proprio di paura che ha segnato questa donna psicologicamente, forse per sempre. Si tratta di una vittima di una 47enne maceratese finita nel merino del suo ex convivente. E veramente questi sono quegli uomini che non accettano la fine della storia e quindi sono loro minati psicologicamente e reagiscono in maniera inconsulta. Continuiamo a leggere ora il resto del Carlino. E vediamo sulla pagina di Pesaro quello che accade per quanto riguarda il caro Vita. Eccola qua, la notizia. Bollette scontro sui 100.000 euro alle famiglie. Ne spendono 264.000 per il periodico. Qui si evidenziano delle polemiche sugli aiuti che vengono decisi dalla Regione Marche. Il consigliere Biancani del Partito Democratico dice che nello stesso giorno hanno stanziato più del doppio per il bollettino. Mentre Micaela Vitri rincara la dose, Miss Italia Fano è costata 120.000 euro per tre giorni. Per il caro Energia solo elemosina. Ebbene, questo spettacolo di Miss Italia, che poi è stato rovinato dalla pioggia, insomma, non è che è stata una gran impresa per la città di Fano. Comunque è servita un po' così a porre la città alla ribalta nazionale. Non era nemmeno la finale, era la semifinale. Insomma, e vabbè, 120.000 euro, mentre per il caro Energia solo elemosina. Arriberebbero a 25 euro a bimestre per un massimo di 4.000 utenti. Praticamente niente. Le cifre dei uti molto, molto basse. Ricci. Dieci idee per il nuovo Partito Democratico. E lunedì arriva Goffredo Bettini. Domani mattina a Roma il sindaco Ricci lancerà la sua proposta nella corsa per la Segreteria Nazionale. Due giorni dopo l'appuntamento in città con uno dei grandi manovratori del partito che presenterà il suo libro. È l'occasione della presentazione del libro. E spesso vale per affrontare dei temi di particolare attualità. E il Partito Democratico in questo momento ne ha diversi da trattare. Primo di tutto il suo rinnovamento per quanto riguarda la debacle elettorale che c'è stata nelle ultime elezioni. Alla grande sull'oceano col cervello pesarese c'è un giovane di casa nostra dietro un secondo posto nella celebre regata Route du Rum. Fabio D'Angeli, questo è il nostro cittadino, 36 anni ed è il coprogettista di questa bellissima barca che ha partecipato alla regata. Vediamo ora le notizie che riguardano Fano. Dove l'apertura è dedicata ancora alle polemiche sollevate dalla perdita dei 20 milioni che sarebbero serviti per realizzare il completamento degli interquartieri sulle colline di Gimarra. Un progetto apertamente contestato dagli ambientalisti. E sono proprio gli ambientalisti oggi a scrivere il loro commento a quanto è avvenuto sul resto del Carlino. Variante Gimarra, felice il comitato che si opponeva perché questo progetto ormai non verrà più realizzato. Però insomma c'è una certa delusione perché Fano perde 20 milioni ed è una risorsa che sarà, era una occasione unica insomma che non potrà essere ripetuta. Intanto l'assessore Fanesi non pare intenzionato a dimettersi, rimane al suo posto. Dunque, soddisfazione, scrive Anna Marchetti, per il blocco della variante Gimarra e rammarico per la perdita dei 20 milioni di euro che se ben spesi sarebbero stati preziosi per la nostra città. E' quanto esprime il comitato per la salvaguardia della trave, Arzilla e Gimarra che ha sempre considerato quella strada una scelta sbagliata, inutile e devastante. Poi abbiamo il successo di una compagnia fanese, si tratta di Neverland che ha allestito un bellissimo spettacolo, quello della Bella e la Bestia, un musical a Sanremo. E qui ci sono stati tanti tanti spettatori, 3.500 spettatori, è un bel successo per la compagnia fanese. Giriamo pagina, siamo alla cronaca e vediamo come in questo articolo si parli ancora di uno stalker, anzi più che uno stalker è di un uomo violento. Condannato il marito, padre e padrone. Due anni di pena a un cinquantenne fanese che maltrattava moglie e figlia, non sopportava l'idea che la ragazza avesse un fidanzato egiziano. E qui, anche qui ci sono minacce e qualche volta si è giunti anche alle mani. Ora tu e l'extracomunitario di M, puntini puntini, andrete a dormire sotto un ponte. Questa è un po' una delle espressioni che è stata estrapolata nelle minacce e nelle cattive parole che il padre esprimeva nei confronti della figlia. E poi vediamo come nel resto del Carlino si parli di una impresa, di una vicenda giudiziaria che è stata posta a soluzione dalla Guardia di Finanza. Bancarotte griffate, si parla della moda di lusso, per 4 milioni, nei guai un sessantenne. E' accaduto a Monteporzio, è appunto questa operazione della Guardia di Finanza che ha fatto divieto di imora per un imprenditore del tessile e del lusso. 9 sono gli indagati, 4 le imprese che erano state ripulite. Insomma, si chiudevano le imprese, se ne riaprivano altre, ma le persone, le finalità erano sempre le stesse. E quindi c'è stato veramente un gioco per riuscire a pagare meno tasse. E poi tutti i giornali questa mattina, sia Corriere Adriatico che Resto del Carlino, riportano la vicenda di questa studentessa che è giunta alla seconda laurea. Beh, non sono poche le persone che continuano negli studi dopo essersi laureate. Ma questa ragazza è una ragazza particolare perché è una ragazza down. La laurea bis di Margherita, ragazza down. La vittoria di una 26enne fanese che dopo la triennale ha concluso anche la magistrale in pedagogia. Vorrei fondare un agrinido, questo è il suo sogno. Il suo metodo, bene, dice io ce l'ho fatta e ce la faranno anche altri come me, se trovano chi crede in loro. Vediamo qui la fotografia delle congratulazioni che Margherita ha ricevuto dal corpo insegnante nel momento della Laura. E poi vediamo qui un'altra fotografia con la sua relatrice Francesca Salis durante la discussione della tesi all'Università di Macerata. Giriamo ancora le pagine. Siamo qui a Urbino. Siete proprio voi i talenti che valgono. Ebbene, è stata presentata l'edizione di quest'anno, del 2022, dello spettacolo con artisti particolarmente abili. Foschi, Elisabetta Foschi, dice Facciamo conoscere alla città le realtà del territorio. Ci sono grandi talenti nel nostro territorio. Si mettono in mostra a Teatro Sanzio sabato 3 dicembre, non sabato, questo sabato prossimo, all'E21 nella terza edizione di Sei tu che vali. Ebbene, anche qui abbiamo uno spettacolo che presenta esibizioni di artisti particolarmente abili. E lo spettacolo è organizzato dal comune di Urbino. E l'evento sarà ad ingresso gratuito. Ora diamo un'occhiata anche a quello che accade nel Monte Catria perché è caduta la neve e quindi saranno contenti coloro che amano sciare. Nonostante l'alluvione di settembre, gli impianti di sci sono pronti all'avvio da questa domenica. Sono 15 centimetri di neve sul Monte Catria e forse il suolo sarà adatto per attirare tante persone che amano la montagna e amano sciare. Ora apriamo il Corriere Adriatico. Abbiamo visto le pagine dedicate alla ricorrenza di oggi, quella contro la violenza sulle donne. E quindi passiamo alla pagina di Fano, dove si apre con l'inchiesta attuata dalla Guardia di Finanza. Sodalizio criminale nel tessile di lusso. Svaniti 4 milioni, 9 sono le persone indagate. Una serie di crack, una dietro l'altra, dicevo, le aziende, le società aprivano e chiudevano. Scatta il divieto di dimora per questo sessantenne di Monte Porzio. La finanza sequestra 47 mila euro. E poi vediamo anche qui quella notizia di cui vi ho già parlato. Laura bisse con la sindrome di Down, Margherita vuole aprire un agrinido. Invece ieri è stata presentata alla Memo, alla Memoteca Montanari a Fano, una iniziativa che si ripropone da 12 anni. Si tratta con le parole giuste. E le parole hanno un significato particolare. Viene proposta una parola che poi viene articolata in diversi argomenti. E ci sono diversi incontri che vengono organizzati con la collaborazione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Quindi la giustizia è uno degli argomenti prioritari. Aprirà la serie, il primo di questi incontri, si terrà lunedì prossimo, quello con il giudice Francesco Messina. Si parlerà di disobbedienza, un termine che può essere declinato in diversi significati. Disobbedienza. Quando è permessa, quando non è permessa, quanto è edificante, quanto è da condannare. Poi seguiranno altri incontri. L'utilità del senso comune, il 14 dicembre, con Anna Maria Lorusso. Senso comune come quell'insieme di credenze, di cultura che lega un popolo. Ancora poi si presenterà il 20 gennaio il Memoriale di Aldo Moro. E poi il 24, la Lega Ambiente, presenterà il volume Ecomafia 2022. Ancora il 3 febbraio seguiranno Giovanni Bocciartieri, docente di sociologia, e il giornalista Piero Dorfless, con la presentazione del libro Metacultura, carta, algoritmi e libertà, che fa luce sul contrasto che c'è sul web per quanto riguarda la divulgazione del sapere, ma anche tutti i pericoli che si nascondono in questa divulgazione. E poi ancora altri argomenti. Si terminerà la serie il 25 marzo con un argomento che interessa anche noi giornalisti, ovvero quello del delicato rapporto tra il processo penale e l'informazione. Spesso c'è una chiusura per quanto riguarda l'informazione che ovviamente cerca di capire tutti gli aspetti di una vicenda giudiziaria. Apriamo ora il giornale sulla Val Metauro, ma troviamo ancora un argomento che parte da Fano e poi si dilunga su tutta la valle del fiume. Fano Grosseto è incompiuta da tanti, tanti anni. Abbiamo visto come la Fano Grosseto non viene inserita tra le priorità di questo governo e insorge a questo proposito l'assessore al turismo di Fano, Etienne Lucarelli. Fano Grosseto, brutti segnali. Subito occorre un tavolo tra le istituzioni. Lucarelli non crede all'apsus di Salvini e chiede un incontro con Umbria e Toscana. E qui si rifanno ancora tavoli, si rifanno ancora progetti. Si parla, però non si conclude ancora niente. E fa bene l'assessore Lucarelli ad incalzare il governo perché mantenga fede alle sue promesse. Prima neve, aprono gli impianti. In funzione la cabinovia e rifugio. Il Monte Catria è imbiancato. I gestori assicurano attività in totale sicurezza. E poi vediamo ancora la pagina di Senigallia dove si presenta il conto per quanto riguarda l'alluvione. Pulizie e manutenzioni 5 milioni per ora. Ma è una cifra che potrebbe aumentare. La spesa molto ridotta rispetto alle previsioni. Si parlava prima di 11,7 milioni. Lo smaltimento dei rifiuti è stato meno costoso. Comunque la spesa di somma urgenza sostenuta dal Comune per l'alluvione è stata minore di quanto previsto e quindi la cifra viene piuttosto contenuta. Sappiamo come il Comune di Fano ha presentato un conto di circa 30-40 milioni. Il Comune di Pesaro lo stesso ma probabilmente arriverà anche 50 milioni. Senigallia invece si contiene almeno per un momento a una cifra più ridotta. Poi voglio segnalarvi anche questo articolo che riguarda il raddoppio della ferrovia Orte-Falconara. Una ferrovia che al momento allo stato attuale crea molti problemi per la lunghezza appunto della lentezza degli collegamenti con la capitale tra le Marche e Roma. Ora si fa un passo avanti perché c'è un progresso nel iter burocratico spazio alle varianti. Una delibera regionale attesta la non conformità urbanistica ai piani regolatori dei Comuni. Ora si convoca una conferenza di servizi. Ebbene che cosa è accaduto? È accaduto che la giunta regionale con una delibera firmata a martedì dal governatore Acquaroli ha dichiarato la strategicità dell'opera per le Marche confermando il parere favorevole alla localizzazione e alla realizzazione dell'intervento. Insomma ormai raddoppiare la ferrovia in modo da rendere più cegliere i collegamenti tra Ancona e Roma dovrebbe essere una cosa da sponsorizzare al 100% e vedremo come andrà a finire anche qui. Siamo ormai in conclusione facciamo qualche notizia di Pesaro evidenziamo qualche notizia di Pesaro e vediamo che si parla del cavalcaferrovia dei Capuccini il dono di Natale sarà la ditta delle cantiere al momento se ne sono scelte 10 tra cui dovrà essere scelta quella che realizzerà l'opera ci sono 3 milioni a disposizione messi appunto a disposizione dal governo questi devono essere utilizzati al meglio poi abbiamo anche un sottopasso da riqualificare ma dopo la stagione fredda i lavori non devono intralciare con i tubi che riforniscono il gas si tratta di un progetto che viene inserito nel bando delle periferie l'amministrazione si prepara alla volata finale per avviare i primi cantieri in questo caso nel 2020 e 23 a marzo del 2023 la città di Pesaro avrà la sala del commiato per quanto riguarda i funerali laici quelli che appunto non si celebrano in chiesa sarà nello scalone vanvitelliano il comune accoglie la richiesta di un luogo pubblico per i funerali laici in centro a piazza del monte dunque la città avrà questa sala comunale riservata ai funerali come un luogo pubblico simbolico intimo e religioso in cui anche le famiglie non religiose potranno commiatarsi dal proprio defunto con una certa intimità e con una certa riservatezza lo hanno illustrato questo progetto il vice sindaco Daniele Vimini e l'assessore del fare Riccardo Pozzi hanno presentato la sala del commiato che sarà collocata nello scalone vanvitelliano in piazza del monte numero 8 una decisione attesa da molte persone che appunto vogliono così salutare in intimità il loro caro defunto e poi vorrei avere del tempo ma non ne ho per leggere per relazionarvi diffusamente di questo articolo perché è una lettera che il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci ha scritto alla direzione sanitaria di Marche Nord a Maria Capalbo elencando tutti i primari che negli ultimi tempi sono licenziati sono andati via sono fuggiti dagli ospedali di Fano e di Pesaro perché ovviamente qui non trovavano una soluzione ideale per la loro carriera e sono veramente tanti vi invito a leggere quest'articolo per rendervi conto di come ci sia stata una fuga di luminari appunto della sanità dal nostro territorio e questo è un po' è un elemento da considerare e qui concludiamo la nostra rassegna stampa Massimo Fughetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a domani a domani a domani a domani Grazie a tutti.